Emergenza coronavirus. La situazione resta molto grave, il governo conferma le misure di massima precauzione linea massima di precauzione confermata dal governo. Si è appena Concluso a Palazzo Chigi l'incontro interministeriale, presieduto dal premier Giuseppe Conte, avente ad oggetto l'aggiornamento sul rischio sanitario collegato al coronavirus. Dal punto di vista sanitario, economico e turistico la situazione è molto grave. In una nota il governo ha sottolinea che continuerà a proseguire lungo il governo ha avviato un'istruttoria per adottare tutte le misure di contenimento degli effetti negativi dell'emergenza coronavirus, che ha implicazioni e conseguenze economiche rilevanti. Cina. Speriamo che l'Italia non prenda misure eccessive, come si evince dal sole 24 ore, la Cina lancia il suo monito. È lo stesso. Portavoce del Ministero degli Esteri, Jenny Schwan, a chiarire il fatto che, dopo lo scoppio dell'epidemia coronavirus, il governo cinese ha adottato tutte le misure di prevenzione e controllo più complete e rigorose possibili. Coronavirus, aggiornata la circolare per le scuole e il Ministero della Salute, sulla base delle indicazioni messe a disposizione dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito dal commissario. Straordinario della protezione civile, ha provveduto ad aggiornare la circolare del 1 febbraio 2020 contenente le indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno in partenza verso aree affette della Cina. In linea con il principio di massima precauzione sancito e ribadito dal governo stesso, nelle prossime settimane è previsto il rientro degli studenti che si trovano attualmente in Cina. Il Dipartimento di Prevenzione della Assel di riferimento favorisce un periodo di permanenza volontaria fiduciaria a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina. Grazie a tutti!